Lucio, fervono gli ultimi preparativi per questa nuova commedia del Gaf, scritta e diretta da lei insieme a Fabrizio Signoretti. Dopo tre anni di attività col freno a mano, riprendiamo a tutti gli effetti il luogo più deputato per le commedie dialettari, il Politeama di Fano. Andiamo con questa nuova commedia, come sempre scritta da me e da me il cugino, che abbiamo intitolato Cum la giri la giri, manda sempre le donne. Come si può evincere dal titolo della commedia, non facciamo altro che constatare, certificare quello che è uno stato di fatto, la supremazia delle donne nei confronti degli uomini. Chi ha una moglie che è sposato, chi è una compagna, si potrà rendere conto pienamente di quello che dico, perché per quanto noi ce la raccontiamo, che siamo quelli che abbiamo le redini della situazione, il bastone di comando, ma poi allo stato dei fatti, chi ci impone le cose, chi dice fai questo, fai l'altro e ci ordina le cose giornaliere, sono sempre le donne. E nel dettaglio qual è la storia di questa commedia? Per quel poco che posso anticipare, la storia si svolgerà in due luoghi fisici ben distinti, la barberia Boris e la parrucchieria Vidal. Poi l'evoluzione della storia porterà anche ad altre ambientazioni, chiaramente. Però avremo praticamente i frequentatori di questi due luoghi, quindi gli uomini da Boris e le donne da Vidal, li vedremo intenti a denunciare i difetti e le costrizioni che sono imposte dall'altro sesso. Però questa sarà soltanto l'inizio della commedia che poi avrà un suo sviluppo in argomenti tradizionali, quali tradimenti incrociati e situazioni di carattere economico o finanziario. E la caratteristica è che le direzioni saranno sempre deputate dalle donne e l'uomo sarà sempre dietro a dover rincorrere, mettere una pezza, attaccare una pezza per poter risolvere la situazione e in qualche modo ridurla ai minimi termini. Quando andrete in scena e da quando è possibile acquistare i biglietti? Noi andremo in scena lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29. La prevendita inizierà da domani, mercoledì 22, alle ore 18 al Politeama. Quindi chi si vuole divertire, chi vuole passare due ore di sano divertimento e garantiamo che il divertimento sarà veramente tanto perché noi siamo i primi clienti esigenti di noi stessi e noi ci siamo divertiti tantissimo a fare le prove. Non può mancare al Politeama perché il GAF presenta Cum la giri, la giri, manda sempre le donne.